Per voi amici dello Scorpione questa invece è una bellissima luna, ancora piena di speranze, di ideali, una luna fortunata, è una luna che alimenta l'amore, alimenta soprattutto le nuove storie che possono nascere, spero siano nate in questo periodo, in questo inizio di primavera, con il transito bellissimo di Venere nel segno dei pesci, questo transito che sta per concludersi e quindi dovete, se ancora non avete in qualche modo esternato il vostro sentimento, fatto un passo importante, preso un'iniziativa nei confronti di una persona che vi interessa, fatelo subito in questa giornata perché poi potrebbe essere troppo tardi.